Stiamo partendo per farci un bel giro in questa macchinata di sole un po' frizzantina e stiamo andando all'eremo di San Valentino. Stiamo partendo per farci un bel giro in questa macchinata. Stiamo partendo per farci un po' di San Valentino, vediamo se si può entrare. Che allegria! Stiamo partendo per farci un po' di San Valentino. Stiamo partendo per farci un po' di San Valentino. Ciao ragazzi, siamo arrivati quasi alla Cielo Alcome. Abbiamo fatto una salita da un sentiero per esperti. E devo dire che è stata dura anche perché ho avuto un po' di ipoglicemia prima e l'ho beccata proprio prima di ricominciare a carburare ci ho messo un po'. Comunque niente, sono arrivata e sono molto orgogliosa di me e grazie a Paolo per la pazienza, per tutte le parolacce che lui non ha sentito ma che io gli ho detto. Sì, ma cosa vogliamo dire qua? Quello che vogliamo dire qua è personante. Sì. 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 Dopo quando si fa sentire la fatica, i deliri... Sì. Caro. Comunque... Sì si è posata la farfalla sulla mano. Quello è il Comer, dove eravamo prima. Guardala, guardala qui. Il lago di Garda e il piggioccolo della farfalla è passata. Siamo arrivati? Eh sì. 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 Questa è la cima del nervo. 100 metri di dislivello in più rispetto a questa. di quelli che mi avevi detto. Eh pardonami. Eh sì. Prosseguiamo adesso. Ti uccido cazzo. Ciao. Eccoci ormai a rientro, su strada. E vai, tra poco arriviamo, tra poco. Dicevamo che fosse finita con l'asfalto. E invece no. Ho fatto un mega girone, ci abbiamo messo un po' tanto tempo, però ne è valsa la pena. Ciao a tutti! Grazie a tutti!